È stata una partita vissuta minuto per minuto, inoltre tutti pensavano, anche i giocatori, che quel primo gol era un fuorigioco, quindi diciamo che la rimonta per me è stato uno stravincere. Il vent è sicuramente cambiato, voi da intenditore di calcio lo sapete meglio di me, perché qui ci sono tutti i professionisti, inoltre il gruppo è molto coeso e questo mi ha fatto infinitamente felice, quindi non ci sono tra professionisti che può accadere delle rivalità o altro. Voglio dire un piccolo episodio che prima della partita con Erpen nel corridoio, gli ho detto Erpen mi devi qualcosa, mi ha detto sicuramente a fine partita gliel'avrò dato e ha mantenuto la promessa. Poi volevo ringraziare anche tutti i tifosi perché erano forse tre anni che la curva l'ho vista piena a tre quarti, questo pure mi ha fatto molto felice.